Sede del Consiglio Municipio 5, Via Berlasca. Anche oggi siamo quasi alla farsa, qui non è bastata la lezione del rinnovatore Renzi, è avvenuta ieri sera. E oggi qui nella Sede di Consiglio si discute l'intitolazione di una sala a Franco Italia, poi una risoluzione presentata da Ventastallati sulla ludopatia. Ma qui si preannuncia la mancanza di un numero legale. Intino chiede un voto all'unanimità per questa risoluzione presa ad omaggiare D'Alia, Franco D'Alia, uomo politico scomparso la scorsa settimana. E l'ha chiesto. Ha chiesto, come le fanno? A Rioli ha chiesto. Non è che sia assicuro che sta fuori. Però il Consigliere ha chiesto. E non è che ci ha avvocato il Consigliere. Adesso è fuori che è stata assicura. La silenzio e la cortesia non può affarrare per un primo Consigliere. Il Consigliere con la vettura. La silenzio e la cortesia non possono parlare. Non c'è perveneci. La silenzio e la cortesia non può affarrare per un primo Consigliere. Se lei muore può portare qui la richiesta di un numero legale. E chi è portato? Lei sapeva che gli scrutatori per richiedere un numero legale bisogna essere scrutatori. No, no, è uno scrutatore, è possibile. Questo è il nuovo regolamento, è se va da solo. E' un disgusto, sta cosa. Nessuno, nessuno. Non mi chiederebbe, fai un minuto, chiedere un numero legale, siete 11, dove sei visto? Non mi chiederebbe, non mi chiederebbe. Manca il numero legale. Manca il numero legale, sospensione. Ecco il numero legale. Ah no, il popolare. Il popolare. La termine del regolamento. Lo spendiamo. 20 minuti, dai. Se è un'intesa del regolamento, il Consiglio è un momento in mente sospesa. Ormai si chiama la frutta, fine anche il buon Matteo, chi serve San Matteo, no? Non mi chiederebbe, 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 non mi chiederebbe. Grazie.